Rivolgo un caro saluto e un sincero augurio di buon anno accademico agli studenti. Conoscerete per la prima volta o ritroverete dopo la pausa estiva i vostri compagni di studio, i vostri docenti, il personale amministrativo di riferimento. Con loro non condividerete soltanto un percorso formativo, ma anche un'esperienza sociale unica e irripetibile. Infatti l'università va intesa come luogo di studio, ma allo stesso tempo come palestra di vita, come comunità di persone uguali, dove ci sono esclusivamente differenza di ruolo, dove i docenti non solo parlano ma anche ascoltano, dove i ragazzi partecipano attivamente alla buona riuscita delle lezioni, dove gli uffici e le segreterie sono sempre aperte e disponibili alle esigenze di tutti, dove in definitiva ciascuno ha il proprio contributo per la crescita degli altri. Diceva Seneca, frequenta chi può rendere te migliore, e chi tu puoi rendere migliore. Il vantaggio è il reciproco, perché mentre si insegna, si impara. Cerchiamo allora di mettere in pratica queste parole di saggezza, cerchiamo di essere uniti e solidari per affrontare le difficoltà del presente e le sfide del futuro. E cerchiamo soprattutto di studiare non solo per noi stessi, ma per il bene comune.